Ciao a tutti, mi presento, sono Andrei Mattiello della cantina Mattiello, vignaiolo in quel dei Colli Berici in provincia di Vicenza. L'azienda è un'azienda a dimensione familiare di circa 12 ettari e da due anni a questa parte ho utilizzato, sto utilizzando lo strumento DNA Phone. Perché ho scelto questo strumento? Ero alla ricerca di uno strumento flessibile da poter utilizzare in cantina durante tutti i processi di vinificazione, sia dall'analisi dell'uva fino proprio agli istanti immediatamente prima dell'imbottigliamento. Quindi dopo un'attenta ricerca, una valutazione di ciò che offriva il mercato ho deciso di affidarmi a tutto lo staff e al gruppo DNA Phone. Uno strumento che può essere utilizzato da tutti è relativamente semplice da utilizzare, per cui è adatto comunque a chi ha voglia di mettersi in gioco all'interno della sua azienda, volendo anche restando completamente indipendenti da laboratori esterni. E questa è la scelta principale che abbiamo fatto all'interno dell'azienda, insieme al nostro staff, siamo indipendenti in tutto e per tutto, quindi tutte le scelte vengono adottate principalmente all'interno della cantina e abbiamo voglia di continuare ad aggiornarci, continuare a studiare e questo è un motivo per il quale può essere indicato l'utilizzo di questo strumento.